Ho appena portato il saluto della città di Catania a sua santità il Dalai Lama, che è atterrato qui a Catania e che sta per andare a Messina e a Taormina. Gli ho espresso la gratitudine profonda della città di Catania per il suo alto magistero, non solo religioso ma anche morale, e per le parole che egli sempre pronuncia, per la pace, per l'accoglienza, per la fratellanza tra gli uomini e le donne del mondo. Gli ho portato in regalo una sorta di rosario buddista, fatto con le pietre dell'Etna, cariche di energia positiva, che ha molto apprezzato e che ha subito indossato. L'ho invitato a visitare la città di Catania e ho ricordato a sua santità che fu io, come ministro dell'interno, a sancire il pieno rinunoscimento dell'Unione buddista in Italia, una giornata di grande emozione per uno dei grandi protagonisti dell'umanità nel mondo, con grande emozione e devozione.